Cari amici, buonasera. Prima di commentare Milan-Juventus, il big match della serata, un breve commento a questa disfatta dell'Inter che veramente fa rimanere basiti, ma non tanto sulla sconfitta, perché le sconfitte nel calcio come nella vita ci stanno, però è sempre il modo che fa la differenza, senza palle, senza coraggio, senza dignità, senza gioco, senza nulla, è quello che fa rimanere costernati, basiti, essere fatti, senza parole, senza parole, perché se il primo tempo, già è solo il primo tempo, fosse finito 7 a 0, nessuno avrebbe potuto dire niente. Secondo tempo, idem, a parte quel regalo iniziale di quel ricore regalato inizialmente, ma poi non siamo stati in gioco né il primo minuto né il 95esimo minuto. Difesa non ce ne sta, ma difesa nel senso difesa della squadra, non ce ne sta proprio. La condizione fisica, la stanchezza, tutti, tutti sono stanchi, ma anche il Napoli, ad esempio, ieri era stanco, e in quella piscina di Genoa ha sputato sangue ed ha vinto. Noi non siamo una vera squadra, alla fine non abbiamo lo spessore, non abbiamo la classe, quindi siamo sempre quella incompiuta che, se va bene, può lottare per il quarto corso, ma se va bene, se non entra in crisi, attenzione, perché noi non siamo nuovi a queste corse. Poi ce l'ho, ovviamente, e l'ho sempre detto, con quella follia tattica di Spalletti, Spalletti continua ancora in bestedito a voler sacrificare scientemente Lautaro Martínez a giocare con una sola punta isolata, come al solito, e invece oggi era la partita di osare con le due punte, e quindi l'India avrebbe potuto fare qualcosa in più. Magari si sarebbe pure perso lo stesso, ma ci sono modi e modi di perdere la partita. Non c'è difesa della squadra. Oggi è mancato tutto, tutti quanti sotto la mediocrità. Non c'è discorso che regga. Questo è ciò che fa rimanere costernati, basiti, esterefatti, perché non è che si perde come può capitare di perdere qualche squadra. Mettiamo il Napoli ieri avrebbe potuto perdere, ma magari per un po' di sfortuna, per un palo, ma non così. Umiliati dal primo al 95esimo minuto, senza fare un tiro in posta praticamente. Non so cosa altro si possa dire. Spero sia stato un blackout, ma questo veramente è un fattore molto preoccupante. Questa altalenanza, passate da prestazioni ottime, come con il Barcellona, comunque il Tottenham e le precedenti di campionato, a questa prestazione. Certamente l'Atalanta è una buona squadra, ma una squadra, voglio dire, che non sta nei primi 4-5 posti in classifica, ha avuto 4 sconfitte, 4 pareggi, non sono né il Barcellona. Veramente oggi stendiamo un velo pietoso e vediamo un po' stasera cosa succede, se la Juve riesce a vincere, perché altrimenti se vincesse in Milano, in Milano si porta un punto da noi. Comunque, vedremo stasera. Un saluto a tutti, ciao!